Il fatto più importante che mi porta a casa da questa esperienza è sicuro il fatto dell'integrazione tra quello che è l'ambito dello studente o comunque del normale cittadino che vive la vita di tutti i giorni con le sfere dell'amministrazione che devono essere sempre interconnessi tra di loro per funzionare al meglio. Giusto che ho partecipato di più all'ambiente cyber security penso che porterò a casa qualcosa di più sull'ambito poi anche un significato in più secondo me sulla pubblica amministrazione di quanto può essere ampia. Sicuramente è importante dare questo tipo di esperienze e questo tipo di location e di attività e di competizioni alle giovani realtà di tutta la penisola. PA Colori per me è una PA inclusiva nel senso più intersezionale e trasversale del termine. Vuol dire una PA facilmente accessibile per tutti, una PA vicina al cittadino, vicina alle sue necessità. È una PA fatta da una pluralità di voci che sono in grado di fondersi e di conciliarsi in maniera tale da davvero adattarla a quello che è poi il tessuto sociale del paese e alle sue necessità.